Salotto Rista Senti, questa borsa la possiamo mettere dentro lo sgabuzzino? Sì, sì Così eliminiamo il... Questa roba qua, tanta roba Questa roba La pietra Nel, questa roba Questa roba Questa roba Nel, sinistra La Piedra Grazie a tutti Allora Io direi di lasciare le roba di là Io mi metto là e mi quadro me la Ma qui guarda che se no non si può fare la foto Guarda che la stanza è veramente pietosa qua Silana qui c'è la stanza libera Se vuoi fare la foto qui I balloni I balloni La cosa sconvolgente sai qual è? E' che abbiamo tanti palloni Abbiamo 15 palloni qua in questa casa I palloni Siamo pieni dei palloni Abbiamo un sacco di palloni Vabbè Vale Grazie a tutti Grazie a tutti Allora 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 Non ce l'abbiamo una bella tovaglia qua Simona? Simona una bella tovaglia Non ce l'abbiamo qua? Una tovaglia? Secondo me tovaglia tutto il tavolo è più bello Io tovaglia tutto E' un bello bianco Il bello bianco Sì perché è una bellissima bella noce? Eh Purtroppo Ecco qua Ecco qua Non è facile essere Allora 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 Questa è una Sony Una Sony Una Sony Allora Nulla di che diciamo Non è paragonabile alla tua macchina? Ma devo anche chiedere con l'idea? Sì, è meglio. Ma secondo te la registra...